bene eccoci qua finalmente avrete capito dove siamo diretti fujiozaki si lasciato la macchina praticamente a fusine abbiamo risalito tutta la strada lago inferiore lago superiore abbiamo provato ad adentrarci nella neve fresca ma ovviamente senza ciaspole non è il massimo abbiamo fatto una scelta di portare una cosa che forse vi siete già accorti nel video la slitta e quindi va così adesso vediamo questi sentieri sicuramente se avessimo avuto le ciaspole il 515 picco di mezzodì non era male che dopo mi pare si ricongiunge al rifugio zacchi per chi vuole avere un po di tranquillità con le ciaspole è l'ideale non è un po di calcio non è un po di calcio non è un po di calcio siamo sulla strada forestale che ci vuote il suo rifugio in teoria in un'ora e mezza dovremo raggiungere la meta quindi ci vediamo direttamente in rifugio attraggio 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 e Ascesa 660 metri Siamo ormai tre ore che stiamo girando Come potete vedere sta nevicando Siamo arrivati finalmente al rifugio Zacchi E questo è il panorama Già qualcuno che scende con le slitte E con i cani che figata Quello che faremo noi a breve Adesso andiamo dentro in baita Cerchiamo di mangiare un bel dolce E ci vediamo dopo con la slitta La mattina è dopo? Non ci avevo visto Perché tu eri già entrato? Il tavolo in piedi si può prendere eventualmente Se vuoi da bere un tè Anche eventualmente il dolce se vuoi Prendendo un bombardino Allora ordiniamo? Sì sì Allora per me è un bombardino E per me è un tè caldo Vuoi la panna? Sì la panna grazie 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 Stai registrando Vabbè vai Io ti aspetto là Sì sì Ma io posso fare come voglio Bene Uff Adesso scendiamo Uff Se andiamo avanti così Di tippa Wow Un bel pagnolone Non va un cazzo Troppo Eh Bene Speriamo di fare Questi 200 metri Almeno di discesa Ecco Stiamo scendendo Sì Speriamo che tenga Sta salita Sì Vada Dio È già finita È già finita La discesa Sì Dobbiamo avere il motorino oggi Non va 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 Come hai fatto a fare Stati Eh Ho capito come fare Dai Sì Scricchiola questa Ficco Ecco qua facciamo un salto Ficco 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 Attenzione che potresti frenata adesso Ficco 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 Oh Siamo riusciti a guidarla Questa sbitta Incredibile Vai 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 Ficco 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 Allora noi vi salutiamo qua perché ci vogliamo godere la discesa ci vediamo la prossima avventura ciao ciao Ficco 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 Pista! Pista! una volta eravamo caduti pista, pista grazie e qui si conclude dai dai stai ancora su stai su stai su stai su stai su stai su stai su